I grandi della terra ospiti della campagna, il ministro Piantedosi ha illustrato il piano sicurezza in vista del G7 dell'interno di ottobre, ammira Beleclano e dice no alla candidatura alle regionali in Campania, a Napoli e Pompei rappresentanti della cultura da tutto il mondo. Il maltempo non dà tregua, ora si contano i danni, tanta paura a Torre del Greco con le strade che si sono trasformate in fiumi, dopo la colata di fango restano fuori casa nove famiglie a Gragnano, disagi per il vento forte, interrotti collegamenti da Napoli verso Ischia e Procida. Numero chiuso a medicina, nuovo attacco di De Luca, il test d'ingresso per gli studenti è un marchettificio e una vergogna nazionale, così il presidente della campagna che invoca un intervento del Parlamento e sul caso San Giuliano ironizza immagini di cabaret e cirquequestre. Avellino, caos in carcere sventata, un'altra evasione, la tentata fuga di cinque detenuti rinchiusi nel penitenziario di Bellizzi, ripropone il tema della sicurezza e delle carenze per la casa circondareale Erpina. Dai sindacati di polizia penitenziaria, nuovo appello al governo. Parcheggiatori abusivi a Salerno Emergenza, nonostante gli arresti e le denunce delle forze di polizia, si moltiplicano le segnalazioni di cittadini esasperati. Un'automobilista minacciato con un coltello, il sindaco Napoli, fenomeno difficile da estirpare, ma non ci fermeremo. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura il G7 dell'Interno in programma in Erpino, ottobre, vertice in prefettura, ad Avellino alla presenza del ministro Piantedosi. Una riunione organizzativa per limare gli ultimi dettagli in vista del G7 e dei ministri dell'Interno a Mirabella e Clano. Il ministro Piantedosi ha presieduto in prefettura ad Avellino il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tutto incentrato sull'evento dei primi di ottobre che accenderà i riflettori internazionali sull'Irpinia. Sarà un impegno importante, come dicevo, diverse centinaia di uomini delle forze di polizia, diverse decine di uomini dei vigili del fuoco, altrettanto degli operatori della sanità. Non temo, adesso faccio gli scongiuri, non temo iniziative di contrapposizione, ma prima di tutto perché ne sono preannunziate, come è anche normale che sia, ci mancherebbe, ma non in maniera al momento che possiamo registrare in maniera preoccupante. Quindi credo che il primo presidio di sicurezza da questo punto di vista sarà proprio la cittadinanza e tutto il contesto territoriale che sta manifestando una grande condivisione e apprezzamento per l'evento. Sul caso San Giuliano boccia i possibili riflessi sul G7 della cultura a Pompei, piante dosi, assicura. Mai si è avuto timore, non è successo nulla che potesse compromettere la cornice di sicurezza che sarà predisposta per l'occasione. E a margine della conferenza stampa il titolare del Viminale ha chiuso la possibilità di essere il candidato per il centrodestra alle prossime regionali in campagna, dopo l'endorsement di Cesa e Martuscello. Credo che non sia qualche cosa che faccia parte della mia storia personale, professionale, istituzionale. Io credo che il centrodestra in campagna abbia e possa avere anche in questa occasione l'opportunità di valorizzare altre importanti risorse che ha. Quindi ad ognuno il suo. E la campagna ospiterà tra Napoli e Pompei anche il G7 della cultura per il parco archeologico un'ulteriore prestigiosa vetrina internazionale. Archiviata la bufera politica che ha portato alle dimissioni del ministro Gennaro San Giuliano il governo conferma il programma del G7 della cultura che vedrà la campagna protagonista. Napoli e Pompei le città che ospiteranno gli eventi con i grandi del mondo. Già definito il piano sicurezza con l'evento che esiterà negli scavi del parco archeologico. Una ulteriore e prestigiosa vetrina internazionale per uno dei luoghi più visitati al mondo che ogni giorno registra numeri record. Con il G7 della cultura che è stato confermato è un'ulteriore grande e importante vetrina per Pompei. Assolutamente, quindi siamo contenti che ci siano queste attività che ci diano visibilità e che ci aiutino a far crescere lo sviluppo del territorio. Il fascino di Pompei è intramontabile? Assolutamente, infatti è per questo che la richiesta è molto alta. Come vedete sono tutti quanti ansiosi di visitare le rovine. Noi siamo felici di accompagnarli. Sono tantissimi stranieri, ci può dare un po' che ha sensazione lei che è una delle guide autorizzate della regione. Da dove vengono la maggior parte dei turisti stranieri qui a Pompei? Allora, noi abbiamo una grandissima affluenza storica di americani, tedeschi, francesi soprattutto e poi anche possiamo dire una buona parte da paesi anglofoni però chiaramente dall'altra parte del mondo e una presenza crescente di clienti asiatici, Cina e Giappone. Un'auto trascinata dalla forza dell'acqua piovana, strade allagate e trasformate in alcuni casi in fiumi in piena, foto e filmati che invadono i social network. Sono gli effetti di una vera e propria bomba d'acqua che ieri sera ha colpito la città di Torre del Greco in provincia di Napoli. Le abbondanti precipitazioni cadute sul comune vesuviano hanno provocato disagio e paura ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L'episodio più grave avvenuto in via 20 settembre e qui la forza dell'acqua ha trascinato un'auto parcheggiata in strada, vettura recuperata solo al termine dell'ondata di maltempo e dopo che è stato identificato il proprietario. Giornata difficile per i collegamenti con le isole sospese e tutte le corse dei mezzi veloci da e per i porti di Procida, Ischia, Casamicciola e Forio con gli aliscafi fermi agli ormeggi. Infine per la frana di Gragnano restano fuori casa nove famiglie. Una vergogna nazionale, così il governatore della campagna Vincenzo De Luca sui test di medicina condannando ancora le modalità di accesso alle professioni sanitarie invocando il modello francese. Vediamo. Si scaglia ancora contro il numero chiuso a medicina il governatore della campagna Vincenzo De Luca nella consueta diretta Facebook del venerdì parlando di test tutt'altro che indicativi del valore dei candidati e il modello roulette russa. Ma per come organizzato abbiamo il massimo di demenzialità, ragazzi anche che superano i test che magari devono andare in una università a 500 chilometri di distanza, test i cui risultati si hanno a settembre quando non ci si riesce più neanche a organizzare proprio dal punto di vista logistico. Una vergogna nazionale che rimane. Per De Luca la chiave anche in virtù della ben nota carenza di medici è l'abolizione del numero chiuso come peraltro in altri stati europei. Ricordo sempre che in Francia l'iscrizione a medicina è libera. Chi si vuole scrivere si scrive. Dopo il primo anno si fa un test per verificare poi il prosieguo dell'attività universitaria ma si fa una prova sulla materia sanitaria attinente alle materie sanitarie non come in Italia dove si fanno i quiz relativi agli azzechi, alla transiberiana e a tutte le imbecillità possibili e immaginabili. Dopo il 14enne accoltellato da un coetaneo fuori dalla scuola a Pompei si registra un altro episodio di violenza che vede protagonisti ragazzi minorenni. A Napoli un 16enne vittima di un raid punitivo dopo una lite. Un escalation di violenza senza fine che sempre più spesso vede protagonisti ragazzi minorenni. In poche ore due gravi episodi di cronaca si sono registrati nel napoletano. A Pompei la polizia ha fermato un 14enne che all'uscita da scuola ha coltellato alla schiena un coetaneo dopo una lite. La vittima non è in pericolo di vita ma intanto la procura per i minori di Napoli ha aperto un fascicolo per lesioni e porto abusivo d'arma da taglio. L'aggressione è avvenuta a lungo via Sacra davanti all'istituto paritario Cesare Brescia. E' terribile, più che altro l'uscita da scuola un ragazzo dovrebbe essere sicuro, tranquillo, invece poi ragazzi giovani di 13 anni, quindi senza parole. Tu sei stata studentessa qui all'istituto paritario Cesare Brescia, qual è l'ambiente? Era un ambiente molto salutare, molto sicuro, quindi infatti mi lascia sterefatta la notizia del genere, proprio fuori all'istituto accadda questo, capito? Credo che la cosa più importante sia anche le famiglie, comunque papà e mamma, riuscire a dare un'educazione e un esempio. L'ultimo episodio invece a Napoli dove un 16enne è stato aggredito brutalmente in una spedizione punitiva, ad orchestrarla così come ricostruito dal deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la denuncia della madre della vittima, la ragazza con cui il 16enne aveva avuto un diverbio. Ti mando il mio ragazzo e ti faccio ricchiare, avrebbe detto la giovane, e così è stato. Il 16enne è ricoverato all'ospedale del mare per le gravi ferite riportate. Torniamo ora in Erpini, al carcere di Avellino. Ieri sera un altro tentativo di fuga da parte di cinque detenuti dai sindacati, un nuovo appello al governo. Ancora una serata movimentata nel carcere di Belizia d'Avellino dove un nuovo tentativo di evasione ha sconvolto l'istituto penitenziario. Dopo l'evasione di pochi giorni fa, ieri cinque detenuti hanno cercato di fuggire, tra cui un ergastolano. Due dei detenuti coinvolti sono stati subito catturati dalle forze di sicurezza. Gli altri tre sono riusciti inizialmente a sfuggire e risultavano irreperibili. Dopo circa un'ora di intensi controlli, i fuggitivi sono stati rintracciati, erano ancora all'interno dell'area di sicurezza del carcere. Ed è immediata la reazione dei sindacati che hanno lanciato un appello urgente alle istituzioni e al mondo politico. Il personale di polizia penitenziaria è attualmente in balia degli eventi e non possiamo più attendere per vedere l'esito di questa situazione, dicono. Occorre agire subito per garantire la sicurezza degli agenti e ripristinare l'ordine all'interno della struttura. La gravità di quanto sta accadendo evidenzia ancora una volta le più gravi carenze del sistema penitenziario, ormai sottoposto a continue pressioni e sfide di sicurezza. Chiediamo immediatamente la convocazione di un tavolo di confronto con le autorità competenti per affrontare l'emergenza e predisporre misure che salvaguardino il personale. Lotta ai parcheggiatori abusivi a Salerno, il sindaco Napoli. Un fenomeno difficile da estirpare, ma non ci fermeremo. Vediamo. Stretta a Salerno, sui parcheggiatori abusivi, continua l'attività di prevenzione della questura su diversi ambiti emessi negli ultimi mesi in tutta la provincia. 182 provvedimenti di avviso orale nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose, dedite a furti nei parcheggi, negli esercizi commerciali e truffe agli automobilisti. Il sindaco Napoli, dopo il tentativo di estorsione nei confronti di un cittadino minacciato con coltello da un parcheggiatore nell'area di fronte al comune, è intervenuto sulla vicenda. Ce l'abbiamo proprio sotto al palazzo. Noi interveniamo con le pattuglie dei vigili urbani e la polizia, che ha addirittura la sua sede qui, la questura, interviene dal canto suo. I dispositivi di legge ci vietano di fare altro. Noi li fermiamo, li generalizziamo, li fanno il DASP e quindi stanno un'altra volta qui. Insomma diventa una lotta impari perché sono persone che non hanno nulla da perdere. Il primo cittadino promette di non abbassare la guardia su un fenomeno preoccupante e difficile da eliminare. Faremo comunque una chiacchierata. Già l'assessore Trigali si è intrattenuto con il questore e col prefetto per verificare come dare una spinta definitiva a questo fenomeno, sapendo che è un fenomeno che intercetta un po' tutte le città d'Italia, soprattutto nel meridione, ed è difficile da combattere e da sconfiggere. Vandali nuovamente in azione a Benevento, dove stavolta nel mirino è finito il campo di basket che il comune sta realizzando nei giardini al rione Mellusi. Intanto il comune dichiara guerra anche a chi occupa abusivamente le abitazioni popolari. Vediamo. scritte senza senso o una valida spiegazione, quanto meno artistica fatte dai vandali che hanno imbrattato a rione Mellusi di Benevento il campo da basket che il comune sta realizzando, nei pressi della parrocchia di San Gennaro e gli uffici della provincia. Un atto vandalico finito ora nel mirino dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore comunale all'ambiente Alessandro Rosa, che rimarca come il gesto sia frutto di imbecilli e non certo di artisti come i writers, da sempre apprezzati dall'amministrazione, che concede loro anche degli spazi da abbellire e per dar sfogo alla creatività artistica. Non è questo il caso. Ora il comune dovrà ripulire prima di proseguire con i lavori per la realizzazione del campetto. Toleranza zero da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella non solo per i vandali, ma anche per chi occupa abusivamente le abitazioni popolari, come dettato dalla nuova normativa introdotta dalla DDL Sicurezza. Così come vedremo anche successivamente, ho visto che c'è stata una norma inapplicata per quanto riguarda le case abusive occupate, appena sarà norma di legge e vedremo anche questo. Cioè chi abusa inizia a dire già che chi di voi è nelle case abusive e non ha diritto di stare inizia a pensare che faremo ripulisti in generale. A Napoli restaurato il portone storico di Palazzo San Giacomo. Terminati i lavori di restauro è tornato al suo antico splendore il portone storico di Palazzo San Giacomo, oggi sede del comune di Napoli. Questa mattina la cerimonia alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell'assessore Edoardo Cosenza, nonché una delegazione di soci dell'associazione Friends of Naples che ha promosso l'intervento di recupero e valorizzazione di un luogo simbolo della città. Per di questo ringraziamo Friends of Naples che con grande generosità hanno finanziato e realizzato questo restauro e che anticipa poi il restauro di tutto Palazzo San Giacomo che noi stiamo definendo nel dettaglio come progetto. È un bellissimo segnale. Questa è la casa dei napoletani, un regalo che è stato fatto ai napoletani e anche testimonia l'impegno anche dei tanti imprenditori privati che gratuitamente si mettono a disposizione per la città. Questo è lo spirito che a noi piace. Napoli ha bisogno del contributo di tutti, sicuramente dell'impegno del pubblico ma anche di tanto contributo dei privati. Una collaborazione tra pubblico e privato fondamentale per il primo cittadino che al momento non anticipa i nuovi progetti in cantiere ma assicura. Noi abbiamo varie interlocuzioni con vari gruppi con cui stiamo discutendo. Non posso anticiparla perché chiaramente è opportuno che per le cose si completino però avverto un grande spirito di partecipazione, di collaborazione, di impegno per la città. Questo è fondamentale. È stato lo scoprimento della statua bronzea di Rita Levi Montalcini ad inaugurare la sedicesima edizione del meeting a Biogem. A realizzarla è stato l'artista rianese Mario Dell'Oriente, fu proprio il premio Nobel Rita Levi Montalcini, a tenere a battesimo nel 2006 il centro di ricerca di Ariano Irpino. Biogem, centro di ricerca biogenetica all'avanguardia, nel suo diciottesimo compleanno, ha così deciso di onorare il suo ricordo con un monumento collocato proprio nel giardino d'ingresso, scoperto nella prima giornata del meeting alla presenza della nipote Piera Levi Montalcini e presidente dell'associazione Levi Montalcini, esperti, scienziati, illuminari del mondo scientifico ed umanistico. In 16 anni sono stati ospiti del centro di ricerca e 10 premi Nobel, mentre nel 2018 ad inaugurare il meeting fu il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dal 3 al 6 ottobre torna per l'ottava edizione del festival Spina Corona, passeggiate musicali napoletane alla riscoperta dei luoghi sconosciuti del centro storico. Oltre 40 artisti di fama internazionale e l'orchestra della Toscana, 19 concerti gratuiti in meno di 100 ore per vivere la grande musica nelle più suggestive chiese e in luoghi della cultura del centro storico di Napoli. Dal 3 al 6 ottobre torna per l'ottava edizione il festival Spina Corona, passeggiate musicali napoletane, ideato e diretto dal maestro Michele Campanella. Quest'anno abbiamo nuove entrate di luoghi che pochissime persone conoscono, è particolarmente una chiesa a Piazza del Mercato che è stata restaurata dal comune da poco e non so quanti l'abbiamo mai vista. Il festival con il coordinamento artistico di Giovanni Oliva è dedicato a Vincenzo Vitale a 40 anni dalla scomparsa. La grande musica, la grande architettura e le grandi bellezze del patrimonio napoletano in una condizione di totale facilità, di totale nonchalanzo, sarei dire, per cui andare ai concerti, cibarsi di musica diventa una meravigliosa quotidianità. Il programma è stato presentato al Palazzo Cavalcanti con Sergio Locoratolo e Ferdinando Tozzi per il comune. Siamo molto felici di poter ospitare l'ottava edizione di Spina Corona, un grande evento musicale ma non solo, soprattutto culturale. Città della Musica è grandi eventi, Città della Musica è musica pop, Città della Musica però è anche Spina Corona. È l'ennesima occasione di un'offerta culturale ricchissima che stiamo offrendo alla città, un settembre davvero strepitoso, ottobre appunto con Campanella ed altre cose che stiamo preparando. Il Tg termina qui, grazie per averci seguito. Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti.